Tavulli è terra di piloti, terra di Valentino Rossi, ma per una settimana il rombo dei motori cede il passo alla cultura, perché Tavulli avvale oro. Questo è il gioco di parole e filo conduttore del programma della Capitale al Quadrato, che mostra tutte le sue eccellenze. È scontato che Valentino, per la nostra comunità, per il nostro territorio, è un veicolo straordinario per il turismo e per tante altre cose. Grazie a lui siamo conosciuti in tutto il mondo, però vale oro ha un doppio senso. Tant'è vero che questa settimana di Valentino Rossi non abbiamo mai parlato, ma abbiamo parlato delle eccellenze che abbiamo qui sul nostro territorio. Terra di confine, a due chilometri dalla Romagna, per la sua settimana da protagonista, la cittadina punta sui bambini e sulle attività che li vedono protagonisti. Ma si parlerà anche della cultura dello sport, con i commentatori di Sky ed Eurosport Riccardo Magrini e Luca Gregorio, che venerdì sera parleranno di Marco Pantani e i grandi scalatori. Sabato mattina, invece, spazio alla presentazione del progetto Via Roma, che racconta lo spopolamento dei piccoli borghi. E poi sabato sera il gran finale con il concerto. Tavuglia svela dunque tutte le opportunità offerte dal territorio, mettendo in mostra i suoi artisti, ma anche le sue bellezze naturali e la sua storia. Da scoprire, passeggiando tra i suoi vicoli o ammirando i suoi panorami e i suoi monumenti. Abbiamo inaugurato circa tre anni fa una rete sentieristica che parte qui dal capoluogo. Sono circa 40 chilometri di sentieri, tutti tabellati, per cui non ci si perde. A fine anno andremo ad inaugurarne altri 40, per cui sul nostro territorio avremo 80 chilometri di sentieri. Inoltre, per i ciclisti, abbiamo il tour dei campioni, che sono dei sentieri per mountain bike e anche per bicicletta da corsa, che collegano due punti, l'abbiamo chiamato appunto tour dei campioni, perché parte da Tavuglia e si arriva a Coriano. Quindi Tavuglia per Valentino Rossi, Coriano per Marco Simoncelli.